Lettura del Vangelo secondo Luca In quel tempo il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo «Andate nel villaggio di fronte. Entrando troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così «Il Signore ne ha bisogno». Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro «Perché slegate il puledro?». Essi risposero «Il Signore ne ha bisogno». Lo condussero allora da Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo «Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli». Pace bene, amici e ben ritrovati a questo nostro appuntamento con la liturgia festiva. Quarta domenica di Avvento ci viene presentato Gesù che entra in Gerusalemme. Naturalmente questo episodio lo troviamo situato al termine della vita pubblica di Gesù, quando poi, essendo entrato nella città santa, viene accusato, viene imprigionato, viene perseguitato, viene crocifisso e poi risorge. Invece la liturgia lo colloca proprio in questo nostro cammino in prossimità del Natale, in questo cammino di Avvento. Gesù entra in Gerusalemme, è entrato meglio in Gerusalemme e vuole entrare adesso dentro la nostra vita, dentro le nostre case. San Bernardo dice che possiamo distinguere tre venute di Gesù, di Dio, dentro la nostra storia. La prima venuta duemila anni fa, quando il Verbo si è rivestito di carne. La terza venuta, l'ultima venuta, quando finiranno i secoli della storia, troviamo Gesù che si manifesterà con tutto il suo splendore e onnipotenza di Dio. E poi c'è una venuta intermedia che sta tra la prima e l'ultima. E il tempo è quello che stiamo vivendo noi. Gesù viene, è venuto, però verrà ancora, ma nel presente, nel tempo, nell'oggi, Gesù viene ancora e si manifesta. Come e in quale modo? E come noi possiamo vivere questa venuta accorgersi di una sua presenza, di una sua compagnia? semplicemente, dice Bernardo, lasciando cadere la sua parola. La sua parola, il Verbo, duemila anni fa, si è rivestita di carne. E si vuole rivestire di carne, permettendogli di entrare dentro il nostro cuore, dentro la nostra coscienza. E poi questa parola caduta dentro il nostro essere si trasmetterà, si configurerà, si comunicherà in opere, in frutti buoni di vita eterna. E allora il problema sta nel permettere al Signore, alla sua parola, di entrare nella nostra vita e di trasformarla. E allora, in questo periodo di avvento, dobbiamo meditare, riflettere, approfondire la parola di Dio, permettere che questa parola ci coinvolga, trasformi il nostro cuore, purifichi il nostro cammino di fede, ci faccia crescere nella dimensione di figli di Dio. Lui è il nostro consanguino Gesù, siamo Suoi fratelli e vuole renderci sempre più somiglianti al figlio del Padre, vuole renderci figli di Dio nella pienezza, nella manifestazione adesso di quello che sarà il nostro dopo, la nostra definitività. E allora la raccomandazione che rivolgiamo a tutti quanti voi, ma a noi, perché siamo dei poveri peccatori in cammino verso questa eternità, in cammino verso la venuta definitiva di Dio, la raccomandazione è proprio questa, permettere al Signore che la sua parola venga rivestita nuovamente di carne, che noi attraverso la nostra carne, il nostro corpo, il nostro essere, la nostra persona, la nostra vita, possiamo manifestare ancora, presentare ancora, rivelare il Signore che è con noi da sempre, da due mila anni fa questa parte, per sempre, fino alla sua ultima venuta. Pace bene amici e buona domenica nel Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.